Truffavano banche e clienti riuscendo a ottenere centinaia di migliaia di euro da carte di credito intercettate prima di arrivare ai destinatari. 14 persone sono state arrestate questa mattina a conclusione dell'indagine incognito da parte dei carabinieri del lucro investigativo di Verbania e dei comandi provinciali di Napoli, Caserta e Bologna. L'indagine è stata avviata a marzo 2019 quando venne arrestato l'autore di una rapina a mano armata in un ufficio postale di Nonio, trovato in possesso di una carta di credito intestata a una donna del nord Italia del tutto estranea al soggetto. In seguito di approfonditi accertamenti è emerso che la carta era stata utilizzata in un casino sloveno e che era stata sottratta, assieme a molte altre, nel gennaio 2019 da un centro postale di Milano. Gli inquirenti hanno quindi intuito l'esistenza di un'organizzazione ben strutturata e hanno proseguito l'attività investigativa con la collaborazione di forze di polizia slovena e svizzera. Questa indagine ha consentito di far luce su alcuni sistemi che ormai quotidianamente vengono utilizzati dai diversi gruppi criminali per sottrarre identità e dati sensibili, oltre ai valori sottratti, considerato che parliamo di diverse centinaia di migliaia di euro, ai cittadini che ormai si sentono sempre più vulnerabili. Si è così ricostruito il minuzioso lavoro dei truffatori. Una volta ottenute le carte, recuperandoli dai centri postali in tutta Italia, dall'ufficio centrale di Napoli alcuni membri della struttura criminale contattavano i destinatari delle carte, gli uffici pubblici e le banche, cercando di ottenere i dati riservati. Per attivare le carte, quindi poi utilizzarle, servivano dei dati sensibili, tipo il PIN, che l'organizzazione otteneva telefonando ai clienti, alle banche e ad uffici pubblici. Utilizzavano anche un'app che si chiama Incognito, da qui il nome dell'indagine, che modifica il numero telefonico del chiamante, facendo quindi credere al cliente che la telefonata arrivasse dalla banca e viceversa. Le carte venivano poi utilizzate sia in Italia che all'estero, per prelievi e acquisti. Con le carte attivate facevano prelievi ed acquisti sia in Italia che all'estero. Nei casi no, sloveni e svizzeri, con documenti falsi, riuscivano a comprare migliaia di euro di fish che subito cambiavano in denaro contante. In caso di carte intestate a soggetti di sesso femminile, una donna si fingeva la moglie di uno dei malviventi. I malviventi erano riusciti anche ad aggirare i sistemi di sicurezza come SMS o avvisi di transazione delle banche. I clienti si accorgevano così dell'utilizzo in debito dei propri fondi soltanto alla ricezione dell'estratto conto, con addebiti anche fino a 6.000 euro. Le indagini hanno consentito di documentare 133 appropriazioni in debito e commesse nei primi sei mesi del 2019, ai danni di 122 persone, per una somma complessiva di centinaia di migliaia di euro. L'attività investigativa, che ha portato fino ad adesso alla custodia cautelare in carcere di 10 persone, un obbligo di dimora e un divieto di dimora, è tuttora in corso.